Una nuova governance del turismo con al centro una società in house, un ente strumentale in grado di inserirsi nel pieno rispetto delle normative statali. Come accogliere il turista e cosa può offrire l'Abruzzo? Il progetto di legge approvato ieri in sede di Consiglio regionale all'Aquila, disciplina del sistema turistico regionale, è un testo unico che riguarda in particolare l'esercizio delle attività di programmazione, indirizzo e coordinamento dell'intero sistema delle partnership di vari settori di riferimento, dalla promozione all'attività ricettiva. L'obiettivo è quello di mettere insieme le risorse sia territoriali che manageriali per poter arrivare a obiettivi sfidanti per la Regione Verde d'Europa, che, lo ricordiamo, è nella top 40 delle località turistiche scelte al secondo posto per impianti sciistici. Da ricordare anche le 14 bandiere blu della costa e inoltre l'aeroporto regionale, che ha registrato un record storico con 300.000 turisti nei soli mesi estivi. Il turista al centro con le sue esigenze, ma anche le imprese del settore saranno più avvantaggiate grazie alla semplificazione delle normative. Grazie per il Consiglio che ha votato senza nessun voto contrario, con qualche astenuto, questo testo di riforma del mondo del turismo. Si tratta di un elaborato importante, in cui abbiamo lavorato tanto con tutti gli stakeholder del settore, composto di ben 125 articoli, che rimette ordine nel mondo del turismo, crea uno strumento agile al passo con i tempi, così come il mondo del turismo richiede oggi, e soprattutto abbroga una serie di leggi e leggine ormai datate e che non permettevano all'Abruzzo di stare al passo con i tempi. Sicuramente è una cosa importante in un settore in cui l'Abruzzo comincia ad avere tanti risultati, se è vero come è vero che la stagione estiva è andata benissimo, siamo tornati ai livelli pre-Covid, e la stagione invernale vede addirittura il comparto dell'Alto Sangro, Roccarasoli-Videondoli, come la seconda meta nei desideri degli sciatori italiani. Quindi sicuramente la strada che abbiamo imboccata è quella giusta, i fatti ci danno ragione e andiamo avanti così. Un vero e proprio rinnovamento per l'intero settore turistico, necessario per il raggiungimento di obiettivi sfidanti, che consentirà anche di collocare bene con il maggior profitto possibile le risorse comunitarie di cui beneficeranno gli operatori turistici.